Jean-Baptiste de la Marque nasce nel 1744 e muore nel 1829 ed è noto soprattutto per una sua ipotesi della teoria evolutiva che sarà estremamente fondamentale per tutta la scienza della biologia evolutiva successiva e in particolare per Darwin che ne è considerato il vero e proprio iniziatore, proprio perché ancora oggi si lavora all'interno di un paradigma di matrice darwiniana all'interno della cosiddetta sintesi moderna che unisce la teoria dell'evoluzione di Darwin con le leggi della genetica di Mendel e il DNA con i suoi meccanismi che sono stati poi formulati a partire dagli anni 50 del secolo scorso. Ora, al di là di questi argomenti che sicuramente affronteremo in futuro, ora vediamo gli elementi caratterizzanti della teoria di Lamarck che si basa sulla legge dell'uso e del non uso e la legge della ereditarietà dei caratteri acquisiti. Questa seconda legge è molto semplice e consiste prevalentemente nel fatto che i caratteri acquisiti durante la vita di un individuo appartenente ad una certa specie, alla popolazione di una certa specie, ecco, possono essere trasmessi alla progegne. Per cui, nell'esempio iconico che viene generalmente fatto, cioè quello delle giraffe, se una giraffa durante la propria vita acquisisce l'allungamento del proprio collo di qualche millimetro nel tentativo di prendere e mangiare le foglie più in alto di una determinata pianta, ecco che questa acquisizione, cioè questo allungamento di qualche millimetro del proprio collo, verrà trasmesso per ereditarietà secondo dei meccanismi che non gli erano ancora chiari, in quanto non era stato ancora scoperto il DNA e non era ancora arrivato Mendel a formulare le leggi della trasmissione ereditaria dei caratteri. Ecco, comunque, secondo questo meccanismo che viene specificato nella legge della ereditarietà dei caratteri acquisiti, un carattere acquisito come l'allungamento del collo può essere trasmesso alla propria progenie. Il secondo punto essenziale che abbiamo enunciato prima è la legge dell'uso e del non uso, secondo la quale gli organi che sono usati con maggiore intensità e con maggiore frequenza si sviluppano, mentre quelli che non vengono utilizzati si atrofizzano. Cioè ci sono degli organismi che sono in grado di modificare i propri caratteri nel corso dell'esistenza, anche individuale, in risposta ad una stimolazione ambientale. Quindi ecco che vi è una pressione selettiva ambientale, ma non nella misura che caratterizza la teoria darwiniana della sintesi moderna, bensì nel far sì che determinati organi vengano ad essere atrofizzati e quindi nella misura in cui essi non sono utilizzati, ed altri organi che invece si possano sviluppare appieno nella misura in cui essi invece sono essenzialmente frequentemente utilizzati. Quindi, secondo la teoria di Lamarck, ci sono una serie di implicazioni che possiamo considerare, ad esempio, sempre con l'esempio delle giraffe, secondo questa teoria gli antenati delle giraffe dovevano essere degli erbivori dal collo non troppo lungo, costretti a brucare le foglie degli alberi durante i periodi di siccità. E questo sforzo continuo di prendere le foglie, beh, avrebbe determinato l'allungamento del collo. Quindi, in origine non solo le giraffe non avevano un collo così lungo, ma avevano anche una forma di nutrimento differente da quella che hanno attualmente. E anche una volta acquisita, se è necessario, è possibile, è l'esempio che abbiamo proposto prima dell'allungamento ancorché millimetrico. Non vi sono però attualmente delle prove salde sicure, scientificamente dimostrabili, secondo l'attuale paradigma della biologia evolutiva, che ci dicano che questa teoria è effettivamente valida. Infatti, noi sappiamo che i caratteri acquisiti non si possono trasmettere. Pensiamo, per esempio, a un bodybuilder, o a chi pratica determinati sport e diventa particolarmente esperto in quello sport, per esempio la ginnastica artistica. Ecco, questo carattere acquisito, una certa muscolatura tonica e resistente, non può essere trasmessa alla progenie, anche se al momento del concepimento si aveva già quella determinata struttura muscolare. Quindi è qualcosa che deve essere riconquistato dalla progenie, dal figlio, che può avere naturalmente delle predisposizioni di questo tipo, ma che ovviamente non sono già presenti in qualche misura perché acquisite dal genitore. Quindi, in questo modo, concludiamo la parte sulla teoria lamarchiana e ci concentreremo nella prossima spiegazione, in questo ciclo di lezioni, per così dire, molto sintetiche, estremamente sintetiche sulla biologia evolutiva, ci concentreremo, dicevo, su Darwin.